Buongiorno a tutti quanti, oggi parliamo di gusto, buon gusto e assolutamente buonissimo soave. Dunque, allora, io partirei sinceramente dal nostro tiramisù. Il tiramisù che ha portato il mio incontro a un incontro musicale. Infatti, ascoltando le note della Nonna Sinfonia di Beethoven, cucinando ovviamente, a me è venuta la grandissima idea di mettere insieme vino e musica. Quindi un progetto musicale che prevede ovviamente la musica a 360 gradi, la musica nei vigneti, ma anche la musica successivamente nelle nostre cantine. Un gusto quindi un po' diverso, che riprende anche le note della lavanda. Questo per me è il mio concetto di gusto. Un cin cin a tutti voi! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS